Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei Siamo ritornati, ormai siamo affezionati a questo negozio, non possiamo farne a meno anche perché qualsiasi problema, attenzione, chi ha un telefono cellulare, chi ha un telefono di qualsiasi genere, spesso ha dei problemi, non problemi, ma problemi proprio di capire le procedure anche più semplici. Tu Marco, hai mai avuto problemi? Io ho dei problemi a Iosa, parlo di quelli telefoni, anche volendo, perché noi riserviamo solo quelli psicologici, telefonia, telefonia fissa e mobile, ma sempre solo telefonia, a volte anche dal telefono uno se non sa dove mettere le mani va in difficoltà. Anche perché questo è il classico, il famoso negozio della linea di cortesia, dove la privacy viene rispettata. Esatto, esatto, questo è il nostro punto di forza, diciamo, da qualche anno a questa parte. Allora, Piero, parliamo questa settimana invece di un'altra offerta, abbiamo parlato l'altra volta di una compagnia specifica, questa volta parliamo di, insomma, la Vodafone, credo che è un'azienda che si presenta da sola e che è sempre attenta un po', soprattutto i giovani. Esatto, esattamente. Allora, Vodafone da tempo cura questo che è l'aspetto del giovane, quindi questi under 30. Non solo, direi di non trascurare da Vodafone la possibilità molto importante del ti porto un amico. Tutti i clienti Vodafone, quindi, che presentano altri amici e li portano all'interno del punto di vendita, possono usufruire di varie, diciamo, promozioni. Bella cosa, bella cosa. Cioè, conviene più per chi usa magari messaggi o chi dedica più discorso ai minuti? Allora, indifferentemente, diciamo, le tecnologie di Vodafone sono tali da crearsi pacchetti su misura, quindi oggi con la Scegli Tu ha avviato un processo di poter scegliere liberamente quello che è il pacchetto ad hoc per ogni esigenza. È chiaro che chi ti porta un amico, nel mio caso, anche chi ti porta un'amica, sarebbe meglio. Magari se sei Francesco va bene se porta un amico, però con Piero ovviamente se porta un'amica siamo più contenti, insomma. Tutti in generale, nella vita, voglio dire. Senza fare esclusione, ci forse rava anche se porti un amico diverso, insomma, ci sta. Vodafone poi già da tempo applica quello che è la possibilità di avere ancora delle migliorie riguardo al prezzo per quanto riguarda la DSL di casa e quindi tutti i propri clienti da offerte vantaggioso in unione o a DSL di casa o chi avete internet che è anche da usare, diciamo, sul proprio PC, sul proprio tablet, da non trascurare l'offerta anche sui tablet, sugli iPad, sugli iPhone e così via. Senti Piero, una cosa che credo che sia di attualità e che sia quella necessaria. Oggi voi avete notato un'offerta delle varie compagnie, quindi è impossibile dire questa meglio di quell'altra. Qui siete diventati un po' i sarti della comunicazione, nel senso che il cliente parlando con voi, voi siete ormai dei consulenti, in base all'esigenza potete soddisfare quella che è la soluzione del problema perché io e lui abbiamo esigenze diverse, lui è alto 1,85 m, io o meno, quindi è giusto che nella comunicazione oggi più che mai bisogna essere dei consulenti a tutti gli effetti. Ma sì, questo è il nostro punto di forza, diciamo noi siamo un piccolo negozio multibrand, multibrand sta per questo, quindi identificare quelle che sono le esigenze del cliente sia nell'ambito privato sia nell'ambito professionale, quindi non trascuriamo le partite IVE. C'è anche questo aspetto che è importante perché poi a volte si abbinano con gli interessi personali, della famiglia eccetera, quindi Vodafone copre un po' tutta questa gara. Ma sì, Vodafone è il leader, è il leader direi a livello mondiale, è in continua evoluzione anche perché ha un'offerta oggi come oggi che è proiettata verso la quarta generazione, cioè una velocità di banda molto elevata, quindi oggi sta facendo degli sforzi non piccoli per cercare di portare una banda molto elevata, quindi ha una velocità sugli smartphone o sui tablet o sull'internet che è superiore a tutti gli altri. In Bologna come è messa come fibra ottica per quello che riguarda la Vodafone? Bravissima, difatti in fibra oggi come oggi c'è questa pubblicità appunto da parte di Vodafone di implementare la fibra e quindi di arrivare a casa del cliente con la qualità migliore diciamo. Mi viene in mente la musica a mettere sotto, quella di Fabri Fibra insomma a questo punto, brutta questa, tu andresti a casa? No, quelli di Vodafone sono contentissimi. Un'ultima domanda, allora qui siamo in Aerotelefonia via Andrea Costa, dove se avete qualche così, non telefonate, venite qua perché poi, ma sì una gentilezza, una cortesia per una risposta che vi serve la trovate sempre, c'è anche questo aspetto poi di fedelizzazione dei clienti, cioè i vostri clienti vi seguono, non sono solo di questa zona ma la bellezza di questo punto vendita è che ormai hai accontentato talmente tante persone che dovunque vadano tornano qua per fare due chiacchiere e per sapere esattamente qual è la situazione migliore al mondo. Ma sì direi che la nostra forza è proprio questo, cercare di accontentarli tutti dai piccoli ai grandi, ai nonni, agli zii e ai nipoti e cercare di soddisfare limitatamente diciamo le nostre possibilità. Ecco, ha detto proprio come lo slogan della Vodafone, illimitatamente. Illimitatamente, questo è proprio, è precisa per sì, appuntamento alla prova a settimana. Se televolando io potessi dirti addio, ti chiamerei.